Ci sono sogni innocenti, carichi di attesa e trepidazione. Ci sono sogni reali, concreti, impregnati di sacrificio e rinunce. Ci sono sogni visionari, utopistici, ma carichi di speranza, passione e dedizione. Poi ci sono certezze, la certezza che i tuoi sforzi non saranno vanificati. Non compromettere i sogni, non confinarli nella fantasia. Dai certezza al futuro. Noi siamo la Banca di Credito Cooperativo di Leverano e aiutiamo a trasformare i sogni in progetti reali. Banca di Credito Cooperativo di Leverano La banca amica del territorio Buone feste dalla BCC di Leverano